E' un nuovo episodio Perché è estremamente pesante sia per me sia per voi Quindi lo cercherò di tenere sui 25-26 Magari i 30 minuti li andrò a fare di estate Quando avrò più tempo Perché non ho veramente così tanto tempo per registrare Comunque vi ringrazio moltissimo La sfida di oggi ve l'ho detta E spero che la superiamo anche oggi Perché mi avete reso veramente felice Che abbiamo superato i 100 mi piace Prima di passare al commento del giorno Voglio ricordarvi che avete ancora più o meno Una settimana, una settimana e mezza Per essere attivi E per lasciare mi piace, commentare Eccetera eccetera Perché andremo a scegliere fra poco I top fan di marzo Quindi se Appunto volete essere attivi O se vi piacerebbe Essere attivi nel nostro mondo In qualche altro modo Siete appunto attivi nei video stessi Comunque passiamo al commento del giorno di oggi Che è di Mesti96 Penso di aver letto il nome nel modo corretto Che mi dà una piccola idea Di andare a creare un cannone O di creare i nostri cannoni Con dei dispenser E poi ci spiega sotto Che non sa se quando la TNT droppa Viene attivata automaticamente Se mettiamo delle torce O se dobbiamo attivarla in qualche modo Allora l'idea in realtà è piuttosto carina Dovrei provarci Vorrei provare a fare un po' di testing Ma l'andrò a fare off camera E poi magari vi dirò Comunque mi sembrava un'idea interessante Non ci avevo pensato di fare qualcosa Con i dispenser E di provare a vedere se li potevamo Utilizzare come cannoni Quindi appunto mi è piaciuta la sua idea Comunque prima di iniziare Voglio ricordarvi che ieri E' uscito un video di Skyrim Il primo video della serie di Skyrim Quindi se ve lo siete persi Vi consiglio di andarlo a vedere Perché è venuto piuttosto bene Mi sono divertito a registrarlo Quindi vi consiglio di andarlo a vedere Se ve lo siete perso Comunque questo è quello che volevo dirvi Prima di iniziare E ora iniziamo veramente Allora prima che me ne dimentico Voglio lasciarvi la domanda di oggi Giuro me lo stavo per dimenticare Me lo sono ricordato proprio All'ultimo secondo Prima di iniziare a registrare Il prossimo pezzo E la domanda di oggi E' una domanda piuttosto Diciamo Piuttosto Centrata su questa stagione Su questa nostra serie Perché Tanto tempo fa Avevo detto che Saria andato a fare Una casa tipo Una baita Nella montagna O qualcosa del genere Però non l'abbiamo mai fatta E visto che Ora stiamo lavorando A quel nostro famoso villaggio Che ormai probabilmente Tutti sanno già qual è Se non sapete qual è Guardate l'episodio Fino alla fine Capirete di quale sto parlando Appunto la mia idea Sarebbe quella di andare a fare Non lontano dal villaggio Una piccola casa Di un Tipo cacciatore O di Non lo so Uno che vive nelle montagne Tipo Montagnaro Si può dire montagnaro Non ne sono sicuro Appunto Che vive nelle montagne Che È una casetta speciale Magari ci facciamo qualcosa Di strano all'interno E perché vi sto dicendo questa cosa Perché voglio chiedervi Secondo voi dovremmo Andarlo a fare questo progetto Oppure no Basta che mi rispondete Sì o no È una domanda piuttosto interessante Quindi rispondetemi Se avete un secondo per farlo Ok allora La prima cosa che andremo a fare oggi Sarà lavorare ad un nuovo progetto Che tanto nuovo O tanto progetto Dovrei dire non è Perché alla fine È un progetto Laterale È una cosa che Mi è venuta in mente O mi avete fatto venire in mente voi Dai commenti Quindi Appunto è grazie a voi Che mi è venuta in mente Comunque sto recuperando qua Un pezzo di Di grass Perché ci servirà Proprio ora E forse Guardando tutti i blocchi Com'è L'avrete già capito Che cosa è che andremo a fare Comunque l'idea Sarebbe quella Di andare a Utilizzare lo spazio Ricavato O lo spazio Che andremo a Diciamo Scavare Qui per il nostro sistema Con le railway Che ci porta Al villaggio Farci questo piccolo slot Che ci sto facendo Adesso a fianco E utilizzare questo slot Per fare un piccolo museo Degli item Quindi avremo Una serie di blocchi O dovrei dire Museo dei blocchi Non degli item Item Suona male In poche parole Sarà Più o meno così Ora voglio coprire qui sopra Perché non è bellissimo Da vedere Ma non importa Poi lo andremo Ad aggiustare tutto bellino L'idea sarebbe quella Di avere Qua scavato Così che possiamo Lasciare tutto libero E possiamo passare tranquilli E poi qua nel muro I diversi tipi di blocchi Partendo da Dai numeri In poche parole Da come sono numerati Sul Vero e proprio inventare Sul vero e proprio gioco Quindi al primo posto Ci sarà l'area E andremo a mettere Un blocco magari sotto Ora utilizziamo la cobblestone Giusto per mostrare Con sopra il cartello Proprio andremo a mettere Il cartello direttamente sotto Non lo so ancora Poi che ne so Avremo grass Poi avremo dirt Cobblestone Oakwood Poi abbiamo Sprucewood E così via Fino ad arrivare Alla fine Ovviamente I blocchi Che non potremo andare A inserire Come che ne so Vediamo Il La Landstone Quella che si trova Tipo O La bedrock Ecco come Come la potete chiamare La bedrock Quella che si trova Diciamo Alla fine del mondo Non la possiamo andare A inserire Perché non si può Recuperare in minecraft La spugna Che è un altro blocco Che non è Proprio utilizzato dal gioco Non la potremo andare A recuperare in minecraft Eccetera 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 Quindi appunto Sarà un po' Un problema E Probabilmente quelli Ne andremo a saltare O andremo a scrivere Solo il nome Con il Cartello E andremo a scrivere Tipo sotto Non recuperabile In minecraft normale O non recuperabile Vanille Eccetera eccetera E in più Un altro problema Che Mi sono Della quale mi sono accorto Proprio mentre facevo Questa lista Degli item O mentre andavo a guardare Che item c'erano E che l'acqua e la lava Non andranno Veramente molto d'accordo Quindi sono un po' Indeciso su come fare questo Perché ok L'acqua si la possiamo mettere così Non è così tanto difficile Ma La lava Come possiamo mettercela A fianco Visto che è quella Subito dopo E' un po' un problema E' un dilemma Veramente dilemmoso Però Non so sinceramente Se la andremo a inserire La lava O se la andremo a inserire In qualche modo Speciale Per non farle toccare Probabilmente andremo a saltare Un blocco O qualcosa del genere Però per ora Le lasciamo stare E le andiamo a inserire Poi Vi ho parlato di questo progetto Perché voglio sapere Cosa ne pensate A me sembra piuttosto interessante E Se diciamo Fatto bene Potrebbe avvenire qualcosa Cosa di piuttosto carino Perché non passeremo velocissimi Con il trenino Si lo chiamo trenino Ma non importa Passeremo tipo a questa velocità qua Quindi avremo tempo di vedere Più o meno tutti i blocchi Un po' in fretta Le vedremo un po' Come un blur Ma Dovrebbe avvenire una cosa Piuttosto bellina Quindi ditemi Cosa ne pensate Ok allora Voglio andare a lavorare un po' A questa nostra casa Che abbiamo iniziato Negli scorsi episodi Che sta venendo piuttosto bene Non ho continuato il pattern Perché non ho ancora idea Se continuarlo in questo modo qua Oppure cambiarlo Voglio una vostra opinione Quindi se avete un secondo Di dirmela Ditemela pure Perché sinceramente Non so cosa sto facendo Con questo pattern È completamente Possiamo dire Più o meno sbagliato Mi sa che lo Rinizierò da capo Seguendo Quello che sto già facendo qua Quindi Voglio togliere Tutta quella parte qua E qua Lo rifarò così Forse lo riusciamo a fixare Vediamo Se io faccio così Dopo Si dovrei riuscire Ad aggiustarlo di nuovo Così Si penso di si Quindi lo possiamo Concludere qua Quindi Vabbè Se avete un'opinione Comunque per il pattern Ditemela pure Perché mi importano Comunque le vostre opinioni E Appunto Per ora Possiamo lasciare così Non lo continuo lì sul bordino Perché sennò verrebbe brutto E però lo continuo fino a qua E qua E qui sotto Speriamo di non cadere Se no mi sfraccello Le ginocchia per terra Ho del legno normale Si perfetto Chiudiamo un attimo Sti buchi Se no Viene una cosa Bruttissima E vediamo Qua come lo devo continuare Devo continuare Due qui Penso No aspetta Se E poi Qua si dovrebbe collegare Lì Perfetto E qua Dovrebbe andare A fare così E vediamo Qui come lo continuiamo Non ho idea Per ora lo lasciamo così E Aspetta Vediamo Se qua è uno Qua sarebbero due Qua sarebbe Uno qui Quindi questo non va qua E Poi abbiamo Qua E si qua è un po' strano Perché alla fine È il punto dove Non abbiamo pattern Vero e proprio Quindi mi sa che lascerò così E lo inizierò così Giusto diverso O in modo strano Possiamo dire Almeno ce l'abbiamo Quale da entrambe le parti E Vediamo È simile Penso Penso di sì Penso che sia abbastanza simile Come pattern Però qua non so Mi sembra che ci sia qualcosa di sbagliato Però non so cosa Vabbè Però lo lasciamo così Non mi sto a concentrare sul pattern Lo farò poi off camera Se no Vi annoio la grande Ora voglio lavorare un attimo qua Alla nostra parte In redstone Che ci servirà Per Attivare e disattivare Questa cosa In poche parole Sarebbe una cosa del genere Però ora lo farò In un modo molto molto semplice Tutto qua Ora dovrei recuperare In qualche modo Quella Uh Ce l'ho fatta Vediamo Rompo qua E esco Perfetto Poi possiamo chiudere qua E potrei lasciare così Ma è brutto vedere una Una leva così Nel nulla La mia idea Era quella di Vediamo Uh Quel punto lì Voglio andare in quel punto lì Eh Avevo già provato a scavare qua Ma perché volevo andare a Nasconderlo sotto Eh Il nostro albero Poi mi sono accorto qua A metà strada Che c'è la nostra casa sotto Eh Quindi ho provato a scavarci intorno Ma Finisci sempre lì di casa nostra Quindi Non posso collegarlo all'albero Eh Quindi voglio Ora che ho visto proprio questo angolino qua Vediamo Se io faccio una cosa del genere Se io buco tutto qui dentro Poi lascio solo un buchetto aperto E metto Qua la nostra pressure plate Qui tutto collegato E qua dobbiamo mettere per forza il blocco Perfetto E faccio così 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 E poi metto qua questo Poi posso chiudere tutto sopra E vediamo se funziona questa cosa oppure no Eh Lascio questo buchetto aperto Poi possiamo buttare Che ne so Un pezzo di terra E Eh no Non è cascato Vai Vai dentro Bravo Eh E così si chiude Quindi dovrei fare un inverter Eh Chissà se Oh lo posso fare subito Mi basta Mi basta una torcia in realtà Eh Nessun inverter speciale Eh Prendiamo da qua un po' di legno Almeno ci facciamo degli sticks E possiamo fare la nostra torcia Così che almeno abbiamo finito questa parte di redstone Eh E la dobbiamo mettere Ah sì A proposito Da sotto si vedrà per forza Non c'è nessun modo in cui posso nasconderlo Perché alla fine deve essere a quella altezza lì Eh Quindi posso metterla qua Perfetto E Vediamo Così è Dovrebbe essere chiuso Eh E se io tolgo l'item Dovrebbe essere aperto Eh No Non c'è più l'item Aspetta Se io butto un item ora E Si apre quando butto un item Perfetto Quindi se io ora lo prendo su Dovrebbe Chiudersi senza problemi Quindi perfetto Funziona Eh Abbiamo almeno fatto la parte di redstone E ora possiamo concentrarci di più sulla casa Ok Allora Voglio darvi un piccolo update Sul nostro villaggio Allora Eh Ho finito qua le curve Però Solo da questa parte Dall'altra parte devo ancora farle Perché devo decidere un po' Come andare a giocarmela Con Quella montagna lì Quindi dovrò vedere Un po' come andremo a fare E come andrò a fare la curva Ma ci penserò più tardi Comunque questa è la curva più o meno Vediamo se riesco ad arrivare sopra Alla nostra torretta Senza lanciare Sì l'ho lanciata tipo in Germania Eh Ok No Non è andata lentissima Perfetto Eh Quindi possiamo salire qui sopra Almeno vi mostro un po' Ouch Eh La curva Adesso come faccio Vediamo se riesco a beccare No Mio Dio Faccio schifo a lanciare l'ender perla oggi Eh Vabbè Dove sono arrivato Dall'altra parte del mondo Mio Dio Dai 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 Perfetto No Niente Nulla Dove siamo Lì Aspetta Così Perfetto Dai Dai A terra dove voglio No Uh No Cioè Eravamo arrivati di petti Vai ora Vai nel punto giusto Perfetto Finalmente Allora Questa qua è la curva Potevi vedere che non è nulla di così estrema È molto molto leggera Eh Pensavo ancora di attutirla un po' di qua E di Scalarla ancora un po' Però mi piace così L'unico problema è che potete vedere che là c'ho la montagna Quindi non sono sicuro Se Riuscirò a farla Comunque per chi la vuole copiare Al 100% Sono 11 blocchi 7 Poi 7 Di nuovo 5 2 2 1 1 2 2 Poi ricontinua Come la prima parte Stessa cosa l'ho fatta di là Che è praticamente La stessa identica cosa Stesso pattern 11 11 7 7 5 2 2 1 1 2 2 Blablabla E ora tutto questo spazio extra che mi è rimasto qui fuori Per Fare quella cosa di cui vi ho parlato nello scorso episodio Che sarebbe praticamente sfumare Il terreno Si è andato sfumare nel modo più strano possibile Per renderlo diciamo un po' più unito con il resto del nostro pavimento qui sotto E per renderlo un tutt'uno Quindi non so come lo andrò a fare Devo ancora lavorarci un po' Stavo pensando di fare proprio scalato Così proprio Magro magro E nulla di così speciale Giusto per salvarci un po' di tempo E magari di scalarlo anche con la posizione delle mura Per far sembrare che le mura sono proprio sul bordo O sono proprio a pelo del terreno Per far sembrare che è stato costruito così apposta O che diciamo le mura non hanno fatto erodere il pavimento sotto di esse Invece tutto il punto dove non c'erano le mura Si è eroso piano piano col tempo Quindi non so Devo decidere quale filosofia adottare per questa cosa Per ora voglio giusto tracciare un attimo la forma del nostro coso Così almeno so qual è tutta la parte extra che devo scavare Potete vedere che è un bel po' È tutto praticamente l'angolino E stessa cosa dovrò andare a fare dall'altra parte Quindi dovrò andare ad aggiustare un po' gli angolini e smussarli Comunque appunto Sarà una cosa che andremo a fare off camera E che non vi farò vedere perché richiederà un bel po' di tempo E piano piano ora inizierò a fare tutte queste mura qua Che seguono tutto il coso Come avevo già detto le andremo a fare fino a quell'altezza qua Fino a dove ci troviamo ora E andremo a mettere una specie di railing speciale o qualcosa Pensavo di... vediamo se riesco a prenderne da qui dentro Ho sprecaso così tante ender per oggi ma non importa Vediamo c'ho delle scale normali No c'ho solo quelle di cobblestone quindi andrò a utilizzare quelle La idea sarebbe quella di andare a fare praticamente il nostro muretto Per camminarci sopra e poi per i lati praticamente mettere le nostre scale Che guardano in una posizione strana Vediamo se riesco a piazzarle in qualche modo Sì, ne ho piazzate tipo 3000 per piazzarne una nella posizione che volevo Ma non importa Quindi così che ci proteggano appunto dal cadere verso sotto E non ci fanno cadere perché dovremo saltare per cadere Quindi potremo continuare a camminare senza rischiare nulla E senza appunto rischiare di venire giù e di spaccarci le ginocchia sul terreno Quindi lo andremo a fare piano piano Però ovviamente vi terrò aggiornati con l'andare del nostro progetto E con l'arricchirsi del centro perché ora inizieremo proprio a fare quello nei prossimi episodi Ok, allora voglio andare un po' a lavorare a questo nostro museo della Redstone Perché l'abbiamo lasciato un po' indietro e noi l'abbiamo continuato Prima cosa che sto facendo è appunto andare a chiudere qua le luci Perché se no non possiamo camminarci sopra e dovevo stare sempre a saltare Quindi ora possiamo mettere via questo nostro vetro perché non mi serve Voglio recuperare un po' di acqua da qua perché ci servirà per riempire il nostro ascensore Così che posso togliere l'acqua quella lì che c'è a fianco Così che possiamo iniziare finalmente a montare per bene il nostro piccolo museo E faccio così uno e poi rubo quest'altra e la metto qua Così che posso anche togliere la terra da qui Perfetto e ora possiamo chiudere Quindi ora se io attivo il nostro sistema E non mi ricordo come sinceramente l'avevo messo per essere attivato Penso che possiamo andare ora a controllare un attimo magari se riesco a lanciare un enderpearl Giusto nella posizione giusta Speriamo di sì? No, 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 torna indietro anzi Oh mio dio Così, così ce la devi fare Non andare oltre ti prego Ok, perfetto Allora, come avevamo deciso di fare qua l'attivazione? Avevamo deciso di attivarla tramite questo sistema qui Quindi questa altezza qua Quindi devo ricordarmi il punto Quindi la nostra leva dovrebbe andare qui Sì, può andare qua Perfetto Quindi qua possiamo attivare il nostro piccolo ascensore Possiamo chiamarlo così Voglio utilizzare due di queste nostre leve Giusto per avere appunto la simmetria Perché sennò mi dà fastidio E ora possiamo utilizzarla come piccolo ascensore Per arrivare qui sopra E senza problemi Appunto possiamo salire un po' lento Però non importa E gli altri ascensori andranno praticamente a collegarsi sullo stesso punto Quindi sarà una lunga ed enorme striscia di acqua che scende Quindi non sarà nulla di così strano Però per continuare La prossima cosa che dovremo andare a fare Sarà lavorare un pochettino Ah, c'avevo già dell'acqua Vabbè, non lo sapevo La prossima cosa che dovremo andare a fare Sarà lavorare appunto A come andremo a fare i vari livelli Allora, per il primo livello La mia idea era quella di andare a utilizzarlo E di andare a dire Ok, guarda qua c'è la redstone Cos'è questa? Redstone Quindi redstone Quindi anzi scriviamo in modo non specifico Quindi il nome dell'oggetto Una descrizione proprio di una linea Quindi descrizione Descrizione Poi la patch in cui è stata introdotta Patch in cui è stata introdotta E Abbastanza, anzi no Possiamo lasciare uno spazio Quindi lasciamo uno spazio E mettiamo la patch qui in fondo Quindi questo lo andremo a fare per ognuna di queste Quindi per questo, per questo, per questo E quella linea che abbiamo lasciato libera L'andremo ad utilizzare per delle cose extra Come per esempio qua Abbiamo i bottoni Andremo ad utilizzare quella linea extra Per dire Ok, nella terza linea Che ne so Esiste in due tipi Tipo esiste in due tipi O due Esistono Esistono due O qualcosa del genere Qualcosa che in poche parole ci stia in una linea E che non occupi tanto spazio E questo lo andremo a fare per praticamente tutte le cose E tutte le cose che abbiamo inserito qui dentro Poi qua mi mancano ancora un paio di pressure plate Che devo ancora craftare Per il secondo livello invece La mia idea sarebbe quella di andare A spiegare le basi della redstone Quindi Perché la redstone si è posizionata su materiale Diciamo Può essere utilizzata Perché la redstone si è posizionata su un altro Non può essere utilizzata Come per esempio qua abbiamo il vetro E noi lo possiamo piazzare sul vetro O come per esempio Se non sbaglio Le torce di redstone In realtà possono essere piazzate Ma le Ma appunto Il vetro è comunque Un blocco trasparente Quindi bla 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 Tutte quelle cose lì E voglio anche spiegare Tipo cose Un segnale di redstone Dura 15 blocchi È lungo 15 blocchi Eccetera eccetera Tutte quelle cose basiche E poi una volta finito Almeno il primo livello Vi darò un piccolo update Per farvi vedere dove siamo arrivati Ok allora Voglio lavorare un pochettino Al nostro Progetto degli ocelot Sono qua Giusto per recuperare un po' di cose E Un attimo dormire Perché ho notato che è notte fuori Quindi Meglio che dormiamo Almeno non abbiamo problemi di luce E quello che vorrei provare a fare oggi È Non solo completare Diciamo la parte centrale Dove cadranno i nostri ocelot Ma anche iniziare a testare Questo probabilmente Lo andrò a fare off camera Perché potrebbe essere Piuttosto noioso E piuttosto ripetitivo Quindi non ve lo faccio vedere Andare a testare Quanta O qual è Diciamo La Larghezza Del Raggio O Forse Del diametro No si del raggio In cui gli ocelot Possono vederci O Diciamo Possono notare Che abbiamo Un pesce in mano E Vengono attratti Dallo stesso pesce Quindi sarà una cosa Molto ripetitiva Da fare Ma lo andrò a fare Off camera Quindi non preoccupatevi Quello che voglio andare a fare Ora con voi È dirvi come andremo A raggiungere il centro Senza Modi strani Allora Se voi guardate Bene 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 Ho messo Le zucche Che c'erano Prima Nei punti Che abbiamo scavato Per Luce Perché volevo Appunto avercelo uguali Però voglio avercelo Tutte e due Che guardano Dalla stessa parte Giusto per essere Un po' Più conformista Però non mi piace Da questa parte Voglio che guardano Dall'altra Quindi metteremo Una qui E l'altra Come la mettiamo Ora Dobbiamo piazzare Questo blocco E metterla così Quindi qua Al posto di questo blocco Andremo a metterci Una scala Che dovevo prendere So che l'ho vista Comunque Per ora Lasciamo stare Voglio fare Un attimo qua Un piccolo cosetto Per tenere l'acqua All'infinito E vediamo se riesco A lanciare Un ender pearl Perfetta Per arrivare nel fiume Ti prego Dimmi di sì Uh abbastanza vicino Vediamo Adesso la rilancio E probabilmente Non ce la faccio Al primo colpo Ma non importa Uh abbastanza Dai siamo In un buon punto E ora possiamo Utilizzare questo Per fare il secondo strato E possiamo iniziare A riempire tutto questo Di acqua Però non a questo livello Al livello più in basso Così che non rischiamo Che tipo Si Non so Sfruttino L'acqua Per darsi Tipo da propeller Per saltare ancora più in alto Non so Potrebbe essere sempre possibile Una cosa del genere Vediamo se riesco In qualche modo A salire E quello che dovremmo Andare a fare Sarà praticamente Metterle tutte Verso il centro Così che I oscelot Vengano bloccati al centro E vediamo se Riusciamo a farlo in fretta Proprio qua E ora voglio rompere questo blocco E voglio controllare Giusto una cosa Se riesco a farla così Senza dover tornare su Sì perfetto Posso rubare l'acqua da qua E ora praticamente Diventerà piena La nostra acqua Ma non importa Quello che voglio fare ora È scavare Diciamo Tutta questa parte Qua al centro E O anzi Diciamo riempire Non scavare E poi questi lati qua In modo che Così Poi possiamo rompere il tutto E dovrebbe tornare tutto Come avevo intenzione Che fosse Vediamo se è vero Oppure no E Perfetto Ci portano tutte In questa linea Al centro Poi qua al centro Andremo a mettere Un'altra linea Che poi ci porterà In un terzo punto Che sarà probabilmente Il nostro punto di arrivo Per ora Scavo da entrambe le parti Perché non so Da che parte andremo E Qua al centro Proprio sotto qua Andremo a mettere Dei cartelli In modo che l'acqua si blocchi E che non Diciamo Vada a lasciare qua sopra Galleggiare i nostri ocelot Perché sennò Rovinerebbe L'idea proprio Di quello che stiamo provando a fare Quindi Per ora ci fermiamo qua Perché non ci serve Veramente di fare molto E Ora c'è solo il testing da fare Ma Come vi ho detto Lo andrò a fare off camera Ok Mi dispiace dirlo Ma per questo episodio è tutto Volevo farvi vedere Una resource pack Ma siamo quasi a 25 minuti Cioè mancano Tipo 30 secondi E nulla Io spero che questo episodio vi sia piaciuto Vi ricordo come al solito Di lasciare mi piace Commentare E iscrivervi E di rimanere iscritti attivi Se non avete intenzione di farlo Vi chiedo di non iscrivervi Perché Perché mi piace di più Poter comunicare con voi E mi piace appunto Poter parlare con i miei iscritti Quindi se magari siete tanto impegnati Appunto cercate Comunque di essere attivi Anche se siete impegnati Perché sapete che Lo apprezzo moltissimo Alla fine Lasciare un mi piace Durante La durata del video Dura tipo mezzo secondo O una cosa del genere Quindi io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Vi ricordo che la sfida di oggi 100 mi piace E 40 commenti E che la domanda di oggi Era Dovremmo andare a fare Oppure no La casa Quella della montagna O quella tipo Stile baita Rispondetemi nei commenti Se vi piacerebbe Vedere una cosa del genere E nulla Vi ricordo che Se non l'avete ancora fatto Potete mandare questo video Agli amici Alla nonna Allo zio Chi volete Per aiutarmi col canale E nulla Io spero che questo episodio Vi sia piaciuto Con questo saluto Bella raga Qui dani fra